Tampà, in bucata, Bertioli! Bucata, Bertioli! Diana Falco, Cenedese, Lusi Leia e Renatigna subito, Bertioli! Un gol a un secondo della fine! Vanin, largo per Bertioli, Bertioli prende la mira sul secondo, palo! Seremo! Ancora Vanin, fattuto da sola, la fitta, Vanin, il tiro! Andare a calciare! Palla dentro! 3-1! Taca con Vanin, Vanin, palla sul destro, Vanin, conclude e poi... Conclude e poi... Alleggerire quanto meno la pressione ora è Beasiolo, che ci prova, Beasiolo in diagonale! Do Cavalca, primo dribbling, conta i passi e vuole andare in porta! Taca Francavilla in un momento molto complesso... Non c'è, non c'è, non c'è fallo! Palla per Bertioli, dietro Bertioli! Palla per Bertioli, dietro Bertioli! Un po' di partita, indubbiamente un bel... Tanto Vanin! Con i fuochi da... Per Seli Gagliardo, pallone sul secondo, palo! Fatto dal Mazz! A corner, dal numero 9, Belli! E' tanto Ticay! Ancora! Bertioli, Bertioli con la schiena, poi il sinistro che fa in rete! Bertioli con la schiena, poi il sinistro che fa in rete! Recupera Bertioli che col sinistro, ancora una volta! Ancora Bertioli! Recupera Bertioli che col sinistro, ancora una volta! Controllo... E ci arriva anche il Stobrand a Bertioli, sette... Bertioli... Controllo e il t... 10 minuti e 14 secondi... Poi Verzulli che ci pensa un attimo per le Corinoio! Verzulli che ci pensa un attimo per le Corinoio! Ticaytacca sul fronte, d'attacco, va Bertioli! Che gol! Attacco, va Bertioli! Per Bertioli che tira! Pinta della numero 21, Tardelli! Direttamente nelle mani di Tardelli ed è gol! Prontamente! Molto aggressive! E molto concentrate! Ma attenzione per Coli! A due minuti dalla fine! Bertioli, vuole andare al tiro! Scodella col testo! Vuole andare al tiro! Scodella col testo! Davanti Pecce e Bortolini! Davanti! Bettioli per... Bettioli... Sta sciogliendo... Qua la conclusione... Qua... Ma la porta è vuota! Ma la porta è vuota! Aida Sciascio viene contro Cortesco! Tacco per Bertioli! Contro Cortesco! Tacco per Sciascio! Non trova la conclusione! Bettioli! Bettioli! Ancora su... Molfetta si riparte da 8 secondi! Per a Sciascio! Velama all'indietro! Velama all'indietro! Pita la Vanin! Allarga trova sola! Bettioli carica il sinistro! Ma il primo gol di questa partita! Bettioli attende Di Mancino! Ma la conclusione! Bettioli attende Di Mancino! Ma la conclusione! 3 a 2! E adesso il pallone è imbibibile! 3 a 3! E città di Falconara! Ci prova Tampa sul secondo gol! Ma che scuola! Gli ruba però palla comodamente! Breno 11 ha rubato palla! Va appena messo il portiere di movimento Moreno Giorno! Il VIP è in difesa pronto a proteggere la propria... Questa sera da il... Viene qui Brutoplone, Persi, Fernandes, porta libera... Brutoplone, Persi, Fernandes, porta libera... Ma c'è una deviazione! L'angolo! Dopo 5 minuti... Salta Will, Vanin, area di rigore, Vanin, pala lì! Area di rigore, Vanin, pala lì! Per Vanin... Bettioli col destro! Bettioli col destro! Da Kaplanet, ora va anche per il quadro! Va anche per... E il signor Edgar... Schulze il gol! E il signor Edgar... Posizioni, confessore... Bettioli che può calciare! Bettioli che può calciare! Bettioli, per Verzulli, in mezzo per Bettioli! Verzulli, in mezzo per Bettioli! Ancora! Preferisce la profondità di Bettioli... Che calcia! Preferisce la profondità di Bettioli... Che calcia! Che calcia! Che calci! Che calcia! Grazie a tutti.